Ciao a tutti, ve lo fai gli auguri di Buon Natale, sono blu come un ilfo, ve lo fai gli auguri di Buon Natale a tutti gli amici di Sport Piceno, sono qui a Teatro Fabri di Forlì per questa importante serata con un'orchestra di tantissimi elementi, una quarantina di elementi, è uno spettacolo molto divertente che si avvicina ovviamente allo spirito natalizio e quindi io anche da Forlì, anche se sono in Bologna con la esce bolognese, saluto gli amici di Sport Piceno, ciao a tutti